Da tempi immemorabili la terra è bombardata da misteriosi corpi astrali. Frammenti dell'universo infinito attraversano la nostra atmosfera in una invasione che non ha fine. Sono le meteore, le stelle cadenti tanto care al cuore dei nostri poeti. Delle migliaia che si dirigono verso la terra moltissime vengono distrutte da una grande fiammata appena penetrano negli strati d'aria che la circondano. Solo una piccola percentuale di esse sopravvive e di queste la maggior parte cade nelle acque che ricoprono i due terzi del nostro pianeta. Tuttavia fin dalla notte dei tempi qualche meteora colpisce la crosta terrestre aprendovi immensi crateri. Crateri di ogni forma, cercati e studiati dagli specialisti perché in essi si cela un segreto scientifico di inestimabile importanza. Le meteore possono giungere in qualsiasi momento di qualsiasi giorno da pianeti appartenenti a costellazioni la cui luce morente è troppo lontana per essere vista da noi. Esse giungono dall'infinito. Arcano segno di vita dalle illimitate vastità dello spazio. La loro natura è sconosciuta, il loro segreto inesplorato. Esse giacciono inerti nella notte e aspettano. E' la sua parte. E' la sua parte. E' la sua parte. E' la sua parte. Grazie a tutti.